Lunedì pomeriggio Paolo Frattura verrà a Isernia come prima tappa del suo turno nei maggiori centri del Molise, dove spiegherà i suoi piani operativi che al momento sono ancora sconosciuti in gran parte dei loro dettagli. A Isernia lo ha chiamato Lorenzo Coia che in consiglio provinciale lo inviterà ad illustrare la sua proposta di sanità all'assemblea dei sindaci della provincia. Peccato che mancheranno quelli che avrebbero dovuto essere i suoi principali interlocutori, ovvero il sindaco e gli amministratori comunali di Isernia, la città chiamata a pagare il prezzo più alto per una riforma che taglierà diversi reparti dell'ospedale Ferdinando Veneziale. È quindi essenziale che lunedì pomeriggio ad aspettare Frattura non ci siano solo i sindaci della provincia ma anche una nutrita rappresentanza degli Isernini, degli operatori sanitari e dei movimenti che più si sono battuti in difesa dell'ospedale di Isernia. È importante lanciare un messaggio, quello che il capoluogo Pentro non si piega di fronte a un progetto di smantellamento della sanità pubblica a vandaggio di strutture private riservate solo a chi potrà permettersele. Il diritto alla salute è garantito dalla Costituzione ma questo in Molise non sembra interessare granché un'opinione pubblica atrofizzata e abituata al clientelismo, che però questa volta deve svegliarsi perché la cittadinanza e le garanzie sociali non sono un regalo per sempre ma un diritto che deve essere rivendicato giorno dopo giorno. E l'augurio è che anche tutti quelli che si propongono come candidati sindaci di Isernia, e ce ne sono tanti, stiano lì, alla provincia, in via Bertha, a difendere la città che vorrebbero governare. Io spero che venga effettivamente qui sotto la nostra provincia una grande massa di persone perché noi comitati, gli ordini, quelli che sono i cittadini che finora si sono mossi, ancora non sono riusciti a far modificare questo deleterio piano che ci sta togliendo il diritto alla salute. Allora noi dovremmo far comprendere al Presidente che vogliamo che cambi questo piano. Se saremo in tanti probabilmente ci riusciremo. Lo posso dire con una battuta di Edoardo che cosa gli dobbiamo dire a questo? Che a lui il precepe non ci piace e quindi vogliamo che cambi. Se lo diciamo in molti ci riusciremo e manteremo il nostro diritto alla salute. Se non lo facciamo prepariamoci a perderlo.